La corsa è il momento in cui tu devi allenarti, fare fatica, sforzarti, impegnarti ogni giorno in vista della gara ed è come la vita dove ogni giorno tu ti alleni ai grandi eventi positivi o negativi che ti occorreranno nel corso della vita. La fatica io la vedo come un passaggio necessario, la condizione per arrivare poi a stare bene, questo sia nello sport, l'allenamento e la fatica, il sudore ogni giorno, e anche nella vita. Grazie per la visione! Mi chiamo Alberto, la mia malattia è un linfoma non Hodgkin, la mia malattia mi ha portato più maturità e più consapevolezza sicuramente, oggi ho corso perché non mi basta sopravvivere, voglio vivere e chi corre vive! La volta salita! Grazie a tutti! complementary L'Operina City! Grazie a tutti.